ciao a tutti ho montato la mia presa presa asciuco sei posti con interruttore più interruttore centrale spine inclinate di 45 gradi così che ci sta più cose possibili e in più qui abbiamo anche i buchi se qualora volessimo poi fissare al muro tutta tutta la ciabatta quindi ha qui una spina un interruttore centrale la spina ormai l'ho già collegata ma è una spina di quelle di quelle piatte qui si vede in foto e questa questa spina qui sempre una tripolare l'unica cosa che vi consiglio è di fare attenzione se dovete metterla in posti molto molto piccoli fate attenzione ricordatevi che l'uscita è da questa parte e le spi i pulsanti sono invece in basso perché ad esempio io qui ho il mobile qualora volessi metterla al contrario perché voglio magari dare più gioco qua mi troverei con il problema contrario perché le spine andrebbero a toccare la parte del muro e queste qui invece sarebbero accessibili dall'alto utile averle accessibili dall'alto magari qui farò un po più fatica a chiuderle però ovviamente non posso a fare non posso fare altro a meno che metterlo anche nella parte nella parte orizzontale quindi fate bene attenzione come volete montarla ciao